buongiorno e benvenuti al nostro appuntamento con il meteo delle stelle sabato sarà una bellissima giornata di sole con temperature gradevoli che raggiungeranno il picco dei 30 gradi nel pomeriggio venti deboli e qualche nuvola ma solo verso sera domenica invece avremo cielo sereno o poco nuvoloso con nubi sparse soprattutto in mattinata venti sempre deboli e temperature che non supereranno comunque i 30 gradi e adesso è arrivato il momento dei nostri appuntamenti per sabato vi consiglio dalle ore 20 l'evento vino gastronomico calici al tramonto alla cantina di finiceto inoltrepo una serata tra vini street food e buona musica per informazioni e prenotazioni vi lascio il numero qui domenica invece vi suggerisco di non perdervi il primo appuntamento delle domeniche medievali di zavattarello dal primo pomeriggio in poi con visite guidate spettacoli a tema medievale nella meravigliosa cornice del nostro oltrepo mi raccomando affrettatevi ecco il numero e l'indirizzo mail per le prenotazioni anche oggi dalla vostra rebecca è tutto vi saluto e vi auguro un buon weekend